Bene, proprio stamattina la struttura del Porticciolo Turistica è stata consegnata ai nuovi gestori, a questi giovani imprenditori che hanno partecipato alla gara bandita dalla regione. Quindi si chiude un pezzo dell'avvio, della riqualificazione, della ripartenza di un pezzo importante che si trova al centro della nostra isola e del nostro centro urbano. Il Porticciolo è un'infrastruttura fondamentale per la nostra città, è giusto che l'amministrazione accolga a braccia aperte questi nuovi operatori, dobbiamo creare le condizioni affinché nel più breve tempo possibile si riavilli la struttura e si definisca anche tutta la riqualificazione delle strutture e delle aree a terra, che sono parte importante del Parco del Lungomare, una zona della città su cui puntiamo molto e su cui crediamo molto per determinare l'isola come luogo di accoglienza di tutto il territorio e per affermarla anche come destinazione turistica al centro del Mediterraneo.